Io ho iniziato l'ultimo ciclo di antivirale. Puoi farmi un favore? Un favore? Vuoi che le riporti indietro? Che le dia a qualcuno? Che le metta mentre ti masturbi? Io vorrei che le prendessi. Non è un favore. Era un'offerta due per uno, non ho resistito. Così ho una scusa per averle comprate. Costano 120 dollari. Ho la macchina dal meccanico, non ho un soldo questo mese. Non posso pagartele. Il primo paio era 120 dollari, queste erano gratis. Lo sai che ho picchiato l'ultima persona che mi ha fatto arrabbiare? Era Bappo Natale. Grazie. 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 Grazie.